Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questa nuova puntata di E'Quindi, io sono Mataj, io sono Vubbi e oggi siamo qui con gli Stuka. Unanimità! Unanimità! Perché io sono quella di Glessa, nel gruppo. Unanimità, diciamo, anche molto raccolta all'interno delle mure. Bene ragazzi, iniziamo subito, come sempre. Vi chiediamo di presentarvi, di dire il vostro nome e qual è il vostro ruolo nella band. Sono Mattia e sono il bassista. Sono Claude e canto. Sono Leonardo e sono la batteria. Sono Gabbo e sono il chitarrista. Allora, noi di voi sappiamo che suonate insieme da molto poco, ma sapete già come farvi riconoscere, insomma. Se vi va di parlarci di come avete iniziato a suonare insieme, da quanto vi conoscete, insomma, un po' della vostra storia, noi siamo felici di ascoltarla. Va bene, una storia lunghina. Allora, lunghina ma breve. Praticamente c'era un concerto, ci sarà noi Mass Noisers, era mia vecchia band. Che saluto, perché sono dei grandi. E tra poco i Bulls e The Frost, tutti ospiti. Abbiamo fatto questo concerto al Fuoriporta il 26 agosto e lei è venuta a vederci. A me non interessava in realtà della musica, io volevo andare a mangiare fritto la mia mamma. Insomma, viene lì e fa, perché lei conosceva la mia cantante, mi fa, c'è questa ragazza che vuole cantare nirvana. E faccio, con chi? Nel senso, abbiamo tutti la scaletta che vuole fare. Insomma, viene a parlare con me e siccome era un periodo un po' particolare per la band, di Mass Noisers, si voleva cambiare cantante per varie divergenze, quindi mi sono messo a parlare con lei, ci siamo trovati bene. E alla fine, dal farla diventare cantante di Mass Noisers, abbiamo deciso di fare una band da zero. E lei si è portata dietro il Carnasciali, Mattia, che io più o meno... Che tra l'altro ci conosciamo dall'Ira di Cristo, perché con Mattia ci siamo conosciuti alle medie, al corso di chitarra, quando aveva il ciuffo color candeggino. che ricordo con immenso piacere, perché veramente è stato il soggetto di enormi ore di bullismo. E io mi sopportato Leo, che è un membro... La sua classe la frequento da un annetto, più o meno. Lui ora fa il conservatorio, parlate. Allora sì, come ha detto Gabbo, io faccio il conservatorio, e conoscevo anch'io Mattia, abbiamo fatto il liceo musicale insieme. E come ti ho conosciuto, Gabbo? Non mi ricordo! Che dio in teori ordini, no? È il compleanno di Irene. Il compleanno di Irene. Allora, questo è da raccontare. Bella Irene! Noi siamo tutti ricchi! Siamo qui apposta! Era un compleanno come tutti, ok? Quindi stavamo divertendo con la musica. A un certo punto vediamo le porte spalancarsi ed entrare questi ceffi, tra cui questo uomo! E da lì parte una gara di ballo con degli sconosciuti. Gabbo ha dato fuoco alla pista, veramente. No, era molto cringe in realtà. No, è vero, stavamo rinconciuti. Comunque ci siamo conosciuti così. E da lì ci sono firmate le giacche? No, te mi hai firmato la giacca a me, io mi ero firmata a te. Va bene così. Va bene così. E da lì siamo conosciuti. Bene, quindi è stato un incrocio di conoscenze, insomma, la creazione del gruppo. Bene, ma alla fine l'ha cantata in Nirvana, sì? No, perché Gabbo veramente, questa non me l'ha censurata, è uno stronzo. No, no, tanto sono... Io sono quello pignolo rompecazzo della band, perché ovviamente lui non sa dove vive. No! No, lo sa quando non beve. Sono tutto il giorno a casa. Loro due, boh, cioè, l'importa, ma la roba, tipo, come dire... Sì, insomma, sono rompecoglioni, andiamo. Non c'è niente da... Vabbè, penso che in tutti i gruppi ci sia un rompecoglioni più degli altri. Infatti di solito Vittoria questa casa la chiede sempre. Chi è il più... Il più tu... Eh, abbiamo già risposto. Eh, poi vabbè, a capicchere a lui non è che ci vuole un digri, eh. Svede, ce l'hai scritto in faccia. Sì, sì, certo, grazie. Grazie a tutti. Sulla giacca. Io invece vorrei chiedervi, e ognuno di voi può rispondere singolarmente, cosa vi ha spinto a fare musica? Cioè, da dove nasce la vostra passione? Quindi, diciamo, qual è il processo che vi ha portato a dove siete adesso? Allora, la mia esperienza musicale nasce sotto la chiesa, ok? Io cominciai con mio gemello a suonare la chitarra, e da lì mi resi conto che non è che mi appassionava così tanto, però la musica comunque l'ascoltavo. e vedi, a tempo di Natale, avrò avuto verso i 7-8 anni, la batteria di Anna Montana. Non so se avete presente la grandezza di quel set, ok? Babbo Natale. La regalò, e da lì la batteria durò due giorni. No! Rompi tutti i tamburi e tutti i piatti. E da lì capì che quella era la mia strada. Rompere le batterie? Sì, decisamente, e le bacchette. E da lì niente, ha cominciato. Medie, ho fatto lezioni di batteria, e superiori, è stato conservatorio. Oh, niente, questo. Spaziato un po' a tutti i generi, e poi ho avuto, sai, come tutti i bambini, i propri idoli, quindi che canta, amare l'idolo dei cantanti. Io avevo Jeff Porcaro e Dave Weigl, molto, cioè, da piccolo, vedevi questi set di batterie con 40 pezzi, e dici, wow, vuoi fare il batterista? E da lì, niente, è continuata la mia passione. Bello, molto bello. Vanti il prossimo. Ah, io sono da due anni, perché mi è sempre grabato il rock, insomma, la musica in generale, però non ho mai voluto iniziare seriamente, quindi niente, due annetti di chitarra e fine. Vabbè, comunque, cioè, io pensavo che suonassi da molto di più, vabbè, io non me ne intendo, però pensavo, ecco. No, cioè, rispetto al chitarrista di, anche Pietro, cioè, Pietro, Antonio. Grande Pietro. Cioè, non so, assolutamente a loro livello, perché loro hanno una formazione, cioè, di anni, proprio. E poi di scuole professionali, io ho tutto tirato, quindi faccio un po' a caso, ma ci sta. Bene, bene, è un punto di inizio, comunque, credo. Penso che tu abbia in programma di continuare. No, certo, ovviamente, ma a me basta fare casino. Vai, non ve la scampate voi due. Giustamente, buttano sempre me. E, boh, come ho iniziato? Non lo so, forse un po' a risposta a mio padre, perché da piccola anche io ho avuto il fulmine per una batteria al giocattolo come Leonardo, quindi potevo essere Leonardo Schuppi parte 2, ma mio padre a un certo punto mi ha fatto no, non ti mando le lezioni di batteria perché è da uomini. Bro. No. E gli ho voluto dimostrare che comunque potevo fare ciò che volevo. Speravo di poter continuare con la batteria, ma poi ho incontrato il canto. Io ho visto che il canto riesce a fondere benissimo in qualsiasi canzone, proprio uomo e donna, non importa chi sei, importa come lo fai, e c'è solo se lo fai bene o se lo fai di merda. E mio padre mi ha bullizzato dicendomi tanto la voce ce l'hai come me, due canzoni e ti va via. Babbo, io adesso sono qua, sto proprio bene, mi diverto con i raga, molto tranquilla. Aspettatevi tra poco una nuova formazione Stuka, due batterie, bassa e chitarra. Spoiler, scusate. No, no, io voglio andare con il barile e la mazza come clown degli slip. Diciamo che, penso che comunque, diciamo, questo muro che ti sei trovata da più piccola penso che sia stata anche l'occasione per dimostrare veramente chi sei e tutto quello che puoi fare effettivamente. Quindi penso sia stato un po' un trampolino di lancio. Correggimi se sbaglio. Certo, certo. Se venite ai nostri live potete tranquillamente constatare come i muri adesso ve li sgraffitiamo e poi li abbattiamo. Allora, la mia è abbastanza particolare perché io ho la tendenza a fare le cose per il meme, cioè senza uno specifico senso, ma solo perché fanno ridere. In Quinta Elementare giocai a un gioco, Far Cry 4, in cui c'era una canzone dei The Clash e per quel motivo comprai una chitarra per iniziare a suonare. Poi la suonavo poco, mi iscrissi al corso di chitarra delle medie dove ho conosciuto Claude. Col ciuffo candeggina, rimarchiamo. Sì, avevo il ciuffone fino a qua giallo e... Sì. Sì, era giallo. Vabbè, non è che ora si è messo. Ora è blu. E poi uno youtuber che seguivo disse che faceva il musicale, scoprì del musicale e mi ci iscrissi a caso, preparai l'esame in poco tempo perché non sapevo nemmeno che c'era l'esame e poi mi sono iscritto al musicale, ho iniziato a suonare più seriamente, ho iniziato il sassofono, il basso, altri strumenti, però sono partito come chitarrista. Aggiungerei che comunque suona molto molto bene, lui è quello proprio più bravo a suonare di tutti, tra l'altro di noi. È anche più bravo di me alla chitarra. Una cosa che ricordo, molto molto divertente, del corso con Mattia fu noi accanto, giustamente i cretini in prima fila, va bene così, gli fa, ma Mattia, com'è che ti sei iscritto al corso di chitarra? E lui, eh, vabbè, con la chitarra di spiaggia, sai quanto si rimorchia? Sendo che sta cosa non ha funzionato. Che tu ti torni? Sì, però non è rimorchia. Ho visto che non faceva per me, ora fanno il basso. Ancora meglio. Fa sempre molto piacere sentire tutte le diverse storie, punti di vista, e noi volevamo chiedervi anche la solita domanda che Vittoria fa sempre a tutti, ma ve la farò dopo. Io volevo sapere, visto che ancora di pubblicare, in questo caso effettivamente non avete niente, vi va di parlare un po' delle vostre canzoni, di cosa vi piace cantare, di cosa vi piace, insomma, scrivere, a chi vi ispirate, un po', un po' così. Allora, Claude, siccome le uniche due per ora abbiamo sono due di testo, poi vabbè, per il resto ci si è pensato a noi, però comunque il resto è la parte più cicciona, quindi vai. Allora, in realtà non è da dove viene solo il mio stile, ma anche da dove viene il loro, perché bene o male ci abbiniamo. Da dove vengo io, tante cose. Mi piace il rap, per come scrivo le canzoni, ci può stare magari un po' più di lavoro attaccato al songwriting di un rapper piuttosto che di un cantante medio. Tuttora mi sto aggiornando su tecniche vocali magari anche più del mondo metal e nei testi questa cosa si riabbatte, perché ci sono tutte le influenze delle cose che mi ascolta e che si ascoltano loro, quindi si parte dal rap, si arriva al metal, poi Gabbo con il rock classico, Leo che ci porta i suoi studi secolari di marimba. Mattia, che tra le varie cose importanti ci potrebbe portare dal musicale, ci porta la sigla di Nana, ma va bene così. E tutto questo esce in testi che possono suonare punk, credo. Non lo so. Che cos'è? Sì, come ha detto io so più sull'hard rock, comunque rock classico, ma mi piace un po' tutta la musica. Lei è su quello che ha detto lei adesso, qui in generale per come canta direi, si è tipo rap e ci mischia anche tanto metal. Il Karnasciali sa fare di tutto, però io ti amo il Karnasciali ma Mattia sa fare di tutto, però diciamo è più anche lui di provenienza punk, lui sa fare tipo roba reggae, jazz, latin, anche musica l'assia di ripostazione proprio e quindi viene fuori questo mischione è tipo una sorta di grunge con cose strane grunge, punk, non lo so. Suona bene e noi si continuano a fare. Suona bene o da ridire perché dobbiamo un po' affinare il suono. Come aveva detto prima, il cagacazzo della band è lui. E invece come messaggi che vi piace portare ovviamente mi riprendo la domanda di prima quindi riferita più che altro ai testi cosa puoi dire tutto davvero non ti sentire di doverti censurare in qualcosa domani mi entrano in casa no che posso dire ma il testo delle nostre canzoni non parte mai da qualcosa di specifico ci troviamo c'è qualcosa che suona bene una bella frase qualcosa che Gab è riuscito a trovare la chitarra qualcosa che Leo ha fatto alla batteria un mattino al basso e ci aggiustiamo e alla fine finiamo a parlare di cose che viviamo ci può stare ci può stare di tutto in un testo nostro ci possono essere cose puramente emotive che prova un medio fine adolescenza inizio dei vent'anni oppure qualcosa di più profondo come magari quel bisogno di farsi sentire che contraddistingue comunque la nostra generazione e che magari potrebbe essere anche coerente con il tipo di museo che facciamo possibile credo quindi tante tante cose ma cose che parlano comunque della nostra generazione che tuttora ha bisogno di tanti veicoli per portare la sua voce io mi volevo ricollegare sempre a questa cosa quindi facendo una domanda che si allontana un po' dal tema musica ma si collega al tema generazione cosa pensate quindi ovviamente potete rispondere tutti che siano le istanze della nostra generazione cosa vorreste che arrivasse da noi giovani ma quello che hanno sempre fatto i giovani cioè portare una ventata di freschezza a qualsiasi cosa ci stiamo provando comunque soprattutto con i suoi testi che comunque a me piacciono e dobbiamo cioè a volte abbiamo discusso sul fatto che magari sono un po' troppo autoreferenziali però comunque spaccano a me mi piacciono non è colpa mia se me la tiro troppo ma per il resto non credo le cose che dici allora io penso che dalle generazioni di cui noi facciamo parte una cosa importante che forse abbiamo anche imparato dalla storia è che principalmente i giovani sono coloro che tendono a sperimentare e sperimentando portano avanti quello che può essere la musica quello che può essere la letteratura quindi quello che chiedo e chiedo di fare anche insieme a me è sperimentare sperimentare e trovare sempre qualcosa di nuovo per andare avanti volete aggiungere qualcosa? che Leonardo Schupi è proprio un grande uomo Leonardo Schupi sarà l'unico sopravvissuto tra cent'anni presidente Leonardo portare i fiori sulle nostre tombe allora vado io domanda banale perché stuca? cosa vuol dire? lo spevo doveva rimanere per forza ok allora la racconto io il fratello è mio la racconto io il fratello è mio inizia bene siamo andati a rapinare una banca con mio fratello che ci faceva da palo no stavo scherzando mio fratello semplicemente si è rotto le scatole perché gli parlavo di questa band che era nata da poco ma non si era ancora trovato un nome e fa bene allora è venuto io vai forza mi propone un paio uno era già preso uno non torna stuca che è stuca Vittorio? e lui è un aereo bombardiere tedesco della seconda guerra mondiale cazzutissimo prendiamolo il nostro bellissimo è totalmente inaspettato uno dice magari un nome a caso Vittorio sarà rotto stuca invece no bella diciamo che secondo me vi rappresenta anche tantissimo proprio come esatto sganciamo le bombe che si deve fare bene per me se non avete niente da aggiungere qualcosa da dire va benissimo così è stata una bella chiacchierata io voglio solo ringraziare i ragazzi della corte che ci hanno dato una grandissima mano questi mesi a crescere e ce li siamo fatti tutti un po' cioè molto amici e niente mi fa molto piacere ecco sono entrato in quel contesto su questo mi piacerebbe dire qualcosa effettivamente di serio ora divento una persona seria alla corte noi dobbiamo veramente tutto noi abbiamo iniziato a provare lì abbiamo scritto i nostri test in sala prove lì da loro il nostro primo live è stato lì da loro doveva durare sei minuti poi ci hanno voluto talmente tanto bene da tenerci molto più di sei minuti circa un'ora sul palco e da lì è nato un grande amore con tutto lo staff la gente vogliamo ringraziare Manu il nostro amicone Schiocco e il nostro padre Score che è il santo protettore degli stuca e ci guida nella via del disagio musicale grazie Schiocco grazie Schiocco sei il padre del punk e Elettra soprattutto la nostra meravigliosa tecnica luci meravigliosissima Elettra ringraziamo anche i fan in generale vabbè chiaro che sono tutti i nostri amici ma loro sono la nostra vita e soprattutto dalla prima linea dei fan Martina la nostra meravigliosa fotografa il Gino e il Silvano la nostra prima linea sotto cassa e chiaramente anche tutte le persone che hanno collaborato via via con noi quindi ragazzi del 29 quindi Bullse che ci hanno aiutato Okin Iapi e Sandrino che hanno suonato la tech con noi grazie quindi a tutti quelli che ci hanno portato qua a vivere questo bellissimo sogno in così poco bene ragazzi noi ringraziamo voi per averci fatto compagnia questo pomeriggio e ciao a tutti e a tutte Grazie a tutti